Scatta domani il decreto Draghi, ma l'ordinanza del presidente Marsiglio è diversa in tre punti essenziali. Da noi in Abruzzo, nelle aree più a rischio, sono possibili infatti una volta al giorno le visite a parenti o amici. Il 3, 4 e 5 aprile è zona rossa anche in Abruzzo, così come in tutta Italia. Durante le festività pasquali vietato ogni spostamento in entrate e uscita dai territori in zona rossa, ma dal 3 al 5 aprile ci si potrà spostare all'interno della propria regione una sola volta al giorno in due e con figli minori di 14 anni per far visita a parenti e amici. In fascia rossa chiusi i bar e i ristoranti che potranno lavorare solo con consegne a domicilio e asporto. I negozi di abbigliamento, calzature e gioellerie dovranno abbassare la sara cinesca nelle regioni rosse, aperti tabaccai edicole, farmacie e parafarmacie. In zona rossa consentite, come detto in Abruzzo, le visite a parenti e amici una volta al giorno nell'ambito del territorio comunale tra le 5 e le 22. Lo spostamento verso le seconde case sarà possibile anche nelle regioni in fascia arancione o rossa, ma solo al nucleo familiare e a patto che siano disabitate. In zona arancione gli spostamenti sono consentiti dentro il comune tra le 5 e le 22 nel rispetto delle restrizioni per muoversi verso le altre abitazioni. I parrucchieri, barbieri e centri estetici aperti in fascia rossa, in fascia arancione, sono chiusi per tutto il giorno bar e ristoranti che potranno lavorare con asporto e consegne a domicilio. Dal 15 marzo al 2 aprile e 6 aprile tutte le regioni saranno almeno in zona arancione. palestre e piscine restano chiuse, zona rossa per tutte le aree dove i contagi superano i 250 casi positivi su 100.000 abitanti. In Abruzzo, didattica a distanza fino a dopo Pasqua con le scuole chiuse, aperti solo nidi e scuole dell'infanzia, salvo ordinanze diverse da parte dei sindaci.